Benvenuti a questo nuovo corso di Photoshop ritocco fotografico. Sono Patrizia Scharrer e vi accompagnerò durante questo corso. Lo sapete quando un'immagine è bella? È bella quando non ha difetti. Ed ecco che è l'ora che andremo a occuparci degli strumenti di ritocco. Photoshop ne ha veramente tanti e andremo a vedere quali sono, dove trovarli, come impostarli per farli rendere al meglio e soprattutto quando usare quale strumento, cosa che non è sempre così facile e automatico. Qui andremo a affrettare poi casi specifici che possono riguardare le lenti, che possono riguardare le persone, che possono riguardare il restauro di foto antiche, che possono riguardare la gestione della prospettiva e tanti altri casi ancora che richiedono un intervento di ritocco prima ancora di poter fare il fine tuning della nostra immagine e dunque gestire tutta la parte delle luci, delle ombre e dei toni. Prima e innanzitutto dobbiamo fare un ritocco perfetto ed è importante saperlo fare bene ed è questo che vi insegnerò in questo corso.